12 rinvii a giudizio, 2 condanne, 2 proscioglimenti. Si è conclusa l'udienza preliminare davanti al GUP di Pescara Maria Michela di Fine per l'inchiesta sull'attività del distretto sanitario di base di Scafa che il 4 giugno 2010 ha portato all'arresto di 4 persone, tra cui l'allora responsabile del distretto, Riccardo Alderighi. Alderighi di Domenico e Nubile sono stati prosciolti da alcuni capi di imputazione. Le due condanne, a 10 mesi e ad 8 mesi rispettivamente, sono state invece inflitte con rito abbreviato al sindaco di Roccamorice Antonio Carmine del Pizzo nel suo ruolo di medico e componente della XIII Commissione per il Riconoscimento delle Invalidità Civili di Scafa e a Marco di Domizio. Il processo a carico dei 12 imputati prenderà il via il prossimo 5 ottobre. Le accuse da cui dovranno difendersi sono associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al peculato, falso, truffa e turbata libertà degli incanti. Secondo l'accusa formulata dal PM Gennaro Varone, nel distretto sanitario di base di Scafa vi era una sorta di sistema caratterizzato dal totale asservimento della cosa pubblica al soddisfacimento di interessi privati. Si timbrava ad esempio il cartellino per poter andare a tinteggiare la casa del direttore. Ci si scambiavano i budget per coprire i colleghi assenti, ma soprattutto venivano compiute irregolarità nella gestione delle commissioni di invalidità.